Ciao a tutti yu, benvenuti sul mio canale, sono BTK, un player competitivo della realtà virtuale, ed oggi come mio primo video dimostrativo sono veramente lieto di presentarvi un vero capolavoro, il miglior battle royale in realtà virtuale con una mappa di 15 km con capienza totale di 45 players ogni match e può essere giocato in single per i più temerari oppure in squadre da due o tre teammates. Ecco a voi yu, Contractors Showdown. Un gioco ispirato ad un titolo che è tuttora una pietra miliare degli FPS nel mondo flat di PlayStation e PC e mi riferisco a Call of Duty Warzone. Eccoci in Showdown yu, benvenuti nel quartier generale, la lobby principale del gioco, dove potremmo avere un assaggio di tutte le meccaniche e le feature presenti in esso. Come potete vedere sono esposte armi, manichini da sparare, oggetti e accessori vari che tra poco andremo a vedere. E' questa sorta di cabine telefoniche che sarebbero le cabine dei rivenditori, che possiamo trovare sparpagliate in tutta la mappa durante i match. E possono essere di tre tipi, quelle come queste viola che servono per acquistare potenziamenti e gadget, quelle come queste rosse invece che vendono munizioni, armi ed accessori delle armi, ed infine quelli blu che sono presenti solo nella mappa del match che ti permette di acquistare la possibilità di una vita extra o di respawnare un teammate perso in battaglia, ovvero l'insurance o assicurazione. Un'altra feature unica e particolare di questo gioco è il dispositivo MICA, ovvero il terminale tattico che vi fa un po' da computer di bordo e vi servirà durante il gioco per visualizzare la mappa, utilizzare il ping per indicare un punto al vostro compagno di squadra, per utilizzare gli utilities come l'UAV, attacco aereo, barriera, un anti-UAV oppure degli ologrammi ESCA ed infine per poter accedere al menu dei rivenditori che vi ho mostrato prima. Un'altra feature di questo gioco ispirata a Warzone sono le placche corazzate che come potete notare oltre ad essere molto simili a quelli originali vengono inserite anche nello stesso modo ma con la differenza che in VR sarete voi a simulare il movimento di infilare la placca corazzata nell'uniforme. E adesso passiamo alle armi presenti nel gioco. Sono presenti due tipi di fucili a pompa, quattro tipi di pistole, tre tipi di mitragliette o SMG, tre tipi di fucili d'assalto e quattro tipi di fucili da cecchino. Infine ci sono altre tre armi speciali che costano di due fucili da cecchino ed uno d'assalto che possiamo trovare solo durante i match esclusivamente aprendo le varie casse sparse per la mappa o raggiungendo gli airdrop che di tanto in tanto vengono rilasciati durante la partita. Se allunghiamo una mano dietro la schiena e premiamo il tasto grip potremo notare che abbiamo a disposizione uno zaino che servirà per poter portare con sé i vari oggetti presi in partita e per equipaggiare i vari potenziamenti che il gioco ci mette a disposizione. Altre feature ispirate a Call of Duty sono i due tipi di corsa, la scivolata e il sistema di rail che possono essere trovati sparpagliati per tutta la mappa e non avendo veicoli a disposizione nel gioco questo si rende l'unico modo per percorrere delle lunghe distanze in breve tempo aiutandosi anche con il nostro buon paragatute che come potete vedere è completamente immersivo e sarete voi a direzionarlo nel migliore dei modi. Dal nostro quartier generale inoltre abbiamo accesso ad un'armeria dove possiamo customizzare tutte le nostre armi e dove potremmo applicare skin, mimetiche, pendenti che a mio parere sono veramente fighissimi ed infine possiamo predirigere le nostre preferenze sugli accessori delle armi ma ricordate che le armi in game vengono sempre trovate prive di accessori e quindi dovremmo cercarli così come tutti gli altri oggetti in questo gioco per poi applicarle alle nostre armi. Per sbloccare le varie skin delle armi, accessori eccetera esiste un sistema di progresso oltre che per il livello del personaggio che aumenta acquisendo punti esperienza durante match oppure portando a termine le missioni extra, esistono delle card che possiamo trovare all'interno della mappa oppure possiamo riscuoterle come ricompensa delle missioni che vanno decodificate in questo decodificatore e crafter e così facendo verranno sbloccati oggetti rari che poi resteranno per sempre salvati nel vostro account. Esistono tre tipi di rarità delle card, grigio per quelle comuni, verde per quelle rare e blu per quelle epiche. Se saliamo al piano di sopra, in quest'altra postazione potrete cambiare la skin del vostro Mika, ovvero il terminale tattico. Mentre in quest'altra postazione potremmo cambiare la skin del nostro personaggio. Eccomi! Ciao a diù! Oh yeah! 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 Vabbè, lasciamo sta! Come potete vedere quindi ci sono le varie skin che poi sbloccherete man mano. Poi in un'altra postazione possiamo modificare la nostra player card. Come vedete ce ne sono varie da sbloccare nel corso delle partite. Ok, adesso andiamo ad aprire il menu di gioco. Basta mettere una mano in avanti e premere il tasto B per la mano destra, mentre il tasto Y per la mano sinistra, andiamo a cliccare su play game e come possiamo notare sul tasto del matchmaking c'è una spunta con scritto fill teammates e spuntandola possiamo scegliere se giocare in solitaria oppure con dei teammates scelti casualmente durante il matchmaking. In alto a destra, invece dove c'è scritto set perks, possiamo selezionare i vari miglioramenti che si attiveranno sul nostro personaggio durante la partita. Il primo perk sarà attivato sin dall'inizio della partita. Poi man mano che sopravviviamo ed ammazziamo altri player guadagneremo dei punti che ci permetteranno di raggiungere le soglie per attivare i perk successivi. Ma adesso basta Waiu, è il momento di iniziare un match. Una volta entrati in partita si inizia con una sorta di rematch e si viene spawnati in alcune zone della mappa con armi casuali. In alto è possibile visualizzare i player attualmente in lobby ed il tempo per iniziare il match. In questa fase potete scaldare il fuoco ammazzando qualche player, scorrazzando quella, chiacchierare con gli altri player o teammate oppure semplicemente aspettare l'inizio del match. E mi raccomando ragazzi seguite il canale e leggete la descrizione per poter scaricare il gioco su Meta per Standalone o Steam per PC VR.